Ciao ragazzi, tutto bene? Ci siamo! Date un'occhiata! Tirate su! Ora quello! Ecco questo! Alzate! Guardate ora! Abbassatelo! Anche quello! Vai! Sì! Cambiamo musica! Ragazze, venite qua! Stasera ho pensato di portare un po' di Las Vegas qui a San San. E quale miglior inizio se non con queste splendide ragazze? Molto bene! Ok, andiamo! Ok, momenti magici! Venite ragazzi! Bene, attenzione! È il momento di presentarvi il volto di Master of Illusion! E' con noi! Teo! Ottimo lavoro! Non c'è di che! Signori Friends, Arati! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.